Luigi Vittiello è stato confermato per acclamazione presidente dell'Unione regionale Cuochi della Campania. Il presidente dell'Associazione Cuochi Avilinesi è stato votato dai delegati delle otto associazioni campane. Ancora una volta i cuochi hanno voluto quale loro massimo rappresentante Vittiello, segno della stima e dell'affetto profondo che gli riconoscono le berrette bianche. Ringrazio tutti i colleghi, ha dichiarato Vittiello, per l'affetto che mi hanno voluto dimostrare accordandomi un nuovo mandato in modo unanime. Una fiducia importante che riverserò nel lavoro che voglio portare avanti nei prossimi quattro anni. Il mio sarà un percorso condiviso, come sempre, con tutti. Con il nuovo Consiglio regionale lavoreremo ancora di più per incentivare la crescita professionale degli associati della categoria tutta. Come sempre saremo al fianco di istituzioni, enti e aziende per portare in atto il nome della nostra terra. Al suo fianco, come vicario, ci sarà il presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Napoli, Giuseppe Sorrentino. Da sottolineare anche l'elezione dei consiglieri nazionali. Riconferma prima di tutto per Pietro Roberto Montone, che oltre a sedere in l'unta nazionale, è anche il presidente vicario nazionale uscente della Federazione Italiana Cuochi. Al suo fianco, l'Assemblea eletto Giuseppe Raimondo. Rappresentare a livello nazionale, hanno commentato i tre consiglieri, un'unione che vanta otto associazioni e tanti iscritti, è motivo di onore ma anche oneri. Siamo certi di riuscire a lavorare con serenità, visto che abbiamo alle spalle un gruppo regionale di tutto rispetto.